Sura diciassettesima. Gloria a colui che di notte trasportò il suo servo dalla santa moschea alla moschea remota, di cui benedicemmo i dintorni, per mostrargli qualcuno dei nostri segni. Egli è colui che tutto ascolta e tutto osserva. Demmo Mosè la scrittura e ne facemmo la guida per i figli di Israele, dicendo loro, non prendete altro protettore che me. Egli era un discendente di coloro che portammo insieme a Noè. In verità, era un servo riconoscente. Decretammo nella scrittura contro i figli di Israele. Per due volte porterete la corruzione sulla terra e sarete manifestamente superbi. Quando si realizzò la prima delle nostre promesse, mandammo contro di voi servi nostri, di implacabile valore, che penetrarono nelle vostre contrade. La promessa è stata mantenuta. Pidemmo quindi il sopravvento su di loro, e vi corroborammo con ricchezze e progenie, e facemmo di voi un popolo numeroso. Se fate il bene, lo fate a voi stessi. Se fate il male, è a voi stessi che lo fate. Quando poi si realizzò l'ultima promessa, i vostri volti furono oscurati, ed essi entrarono nel Tempio come già erano entrati, e distrussero completamente quello che avevano conquistato. Forse il vostro Signore vi userà misericordia, ma se persisterete, persisteremo. Abbiamo fatto dell'inferno una prigione per i miscredenti. In verità, questo Corano conduce a ciò che è più giusto, e annuncia la lieta novella ai credenti, a coloro che compiono il bene. In verità, avranno una grande ricompensa. E in verità, per coloro che non credono nell'altra vita, abbiamo preparato un doloroso castigo. L'uomo invoca il male come invoca il bene. In verità, l'uomo è frettoloso. Abbiamo fatto la notte e il giorno come segni. È oscuro il segno della notte, mentre è chiaro il segno del giorno, affinché in essi cerchiate la grazia del vostro Signore, e conosciate lo scorrere degli anni e il computo del tempo. Ed ogni cosa, l'abbiamo esposto in dettaglio. Al collo di ogni uomo abbiamo attaccato il suo destino, e nel giorno della Ressurrezione gli mostreremo uno scritto, che vedrà dispiegato. Gli sarà detto, Leggi il tuo scritto. Oggi sarai il contabile di te stesso. Chi segue la retta via, la segue a suo vantaggio, e chi si svia, lo fa a suo danno. E nessuno porterà il peso di un altro. Non castigheremo alcun popolo senza prima inviar loro un messaggero. Quando vogliamo distruggere una città, ordiniamo il bene ai suoi ricchi, ma presto trasgrediscono. Si realizza allora il decreto, e la distruggiamo completamente. Quante generazioni sterminammo dopo Noè? Quanto a chi desidera il caduco, ci affrettiamo a dare quello che vogliamo a chi vogliamo. Quindi lo destiniamo all'inferno, che dovrà subire, bandito e reietto. Quanto invece a chi vuole l'altra vita, sforzandosi a tal fine ed è credente? Il loro sforzo sarà accetto. Sosterremo con i doni del tuo Signore questi e quelli. I doni del tuo Signore non sono negati a nessuno. Osserva come diamo ad alcuni eccellenza su altri. Nell'altra vita, però, ci saranno livelli più elevati ed eccellenza maggiore. Non accostare ad Allah un'altra divinità, che saresti bandito e reietto. Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare bene i vostri genitori. Se uno di loro o entrambi dovessero invecchiare presso di te, non dir loro, uff, e non li rimproverare. Ma parla loro con rispetto e inclina con bontà verso di loro l'ala della tenerezza. E di, O Signore, sii misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei miei, allevandomi quando ero piccolo. Il vostro Signore ben conosce quello che c'è nell'animo vostro. Se siete giusti, Egli è colui che perdona coloro che tornano a Lui pentiti. Prendi il loro diritto ai parenti, ai poveri e al viandante, senza per questo essere prodigo. Che in verità i prodighi sono fratelli dei diavoli, e Satana è molto ingrato nei confronti del suo Signore. Se volti loro le spalle, perché nulla hai da dare, pur sperando nella misericordia del tuo Signore, di loro una parola di bontà. Non portare la mano al collo, e non distenderla neppure con troppa larghezza, che ti ritroveresti biasimato e immiserito. In verità il tuo Signore concede con larghezza o parsimonia la sua provvidenza a chi vuole. In verità, Egli osserva i Suoi servi, ed è ben informato. Non uccidete i vostri figli per timore della miseria. Siamo noi a provvederli di cibo, come provvediamo a voi stessi. Ucciderli è veramente un peccato gravissimo. Non ti avvicinare alla fornicazione. È davvero cosa turpe e un tristo sentiero. E non uccidete, senza valida ragione, coloro che ha all'avia proibito di uccidere. Se qualcuno viene ucciso ingiustamente, diamo autorità al suo rappresentante. Che questi, però, non commette eccessi nell'uccisione, e sarà assistito. Non toccate i beni dell'orfano se non a suo vantaggio, e solo fino a quando non raggiunga la maggiore età. Rispettate il patto, che in verità vi sarà chiesto di darne conto. Riempite la misura quando misurate, e pesate con la bilancia più esatta. Questo è il bene che conduce al miglior esito. Non seguire ciò di cui non hai conoscenza alcuna. Di tutto sarà chiesto conto, dell'udito, della vista e del cuore. Non incedere sulla terra con alte rigia, che non potrai fenderla, e giammai potrai essere alto come le montagne. Tutto ciò è abominio detestato dal tuo Signore. Ciò è quanto ti è stato rivelato dal tuo Signore a titolo di saggezza. Non porre assieme ad Allah un'altra divinità, che saresti gettato nell'inferno, bandito e reietto. Il vostro Signore vi avrebbe riservato dei maschi, e avrebbe preso femmine tra gli angeli? In vero pronunciate parole mostruose. In verità abbiamo esposto la dottrina in questo Corano, perché i miscredenti dessero ascolto, ma ciò non fa che aumentare la loro avversione. D. Se ci fossero dèi assieme a Lui, come dicono alcuni, tali dèi cercherebbero una via per giungere fino al padrone del trono celeste. Gloria a Lui! Egli è ben più alto di quello che dicono. I sette cieli e la terra, e tutto ciò che in essi si trova lo glorificano. Non c'è nulla che non lo glorifichi lodandolo. Ma voi non percepite la loro lode. Egli è indulgente, perdonatore. Quando leggi il Corano, mettiamo una spessa cortina tra te e coloro che non credono nell'altra vita. Abbiamo avviluppato i loro cuori e nelle loro orecchie abbiamo posto un peso, affinché non possano comprenderlo. Quando menzioni nel Corano il tuo Signore, l'unico, voltano le spalle con ripulsa. Sappiamo molto bene cosa ascoltano, quando ti ascoltano, e anche quando sono in segreti conciliaboli e dicono gli empi, voi non seguite altri che un uomo stregato. Guarda che metafore coniano su di te. Si sviano, incapaci di seguire alcun sentiero. E dicono, Quando saremo ossa e polvere, saremo risuscitati a nuova creazione? Di Foste anche pietra o ferro o qualunque altra creatura che possiate concepire. Diranno allora, Chi mai ci farà ritornare? Di Colui che vi ha creati la prima volta. Scoteranno allora le teste verso di te dicendo, Quando avverrà tutto ciò? Di È possibile che sia vicino. Nel giorno in cui vi chiamerà, gli risponderete lodandolo e crederete di essere vissuti ben poco. Di ai miei servi che parlino nel modo migliore, poiché Satana si intromette tra loro. Satana per l'uomo è un nemico manifesto. Il vostro Signore vi conosce bene. Se vorrà, vi userà misericordia. Altrimenti vi castigherà. Non ti inviamo per essere responsabile di loro. Il tuo Signore ben conosce quel che c'è nei cieli e sulla terra. Ad alcuni profeti abbiamo dato eccellenza sugli altri e a Davide abbiamo dato il salterio. Di loro invocate quelli che pretendete essere dei all'infuori di lui. Essi non sono in grado di evitarvi la sventura e neppure di allontanarla. Quelli stessi che essi invocano cercano il mezzo di avvicinarsi al loro Signore, sperano nella sua misericordia e temono il suo castigo. In verità, il castigo del Signore è temibile. Non ve' città che non distruggeremo prima del giorno della resurrezione o che non colpiremo con severo castigo. Ciò è scritto nel libro. Nulla ci impedisce di inviare i segni se non il fatto che gli antichi li tacciarono di menzogna. Come segno tangibile demo la cammella ai Thamud ma essi le fecero torto. Inviamo i segni solo per incutre sgomento. Ricorda quando dicemmo In verità il tuo Signore ti proteggerà dagli uomini e la visione che ti abbiamo dato altro non è che una tentazione per le genti come del resto l'albero maledetto nel Corano. Noi minacciamo ma ciò non serve che ad accrescere la loro ribellione. Quando dicemmo agli angeli prosternatevi davanti ad Adamo tutti si prosternarono eccetto Iblis che disse mi dovrei prosternare davanti a colui che hai creato dal fango e disse ancora che questo è l'essere che è onorato più di me se mi darai tempo fino al giorno della Ressurrezione avrò potere sulla sua discendenza eccetto pochi. Allah disse vattene e chiunque di loro ti seguirà avrà l'inferno per compenso abbondante compenso. Seduci con la tua voce quelli che potrai riunisci contro di loro i tuoi cavalieri e i tuoi fanti sii loro socio nelle ricchezze e nella progenie blandisci le compromesse. Le promesse di Satana non sono altro che inganni. non avrai però nessuna autorità sui miei servi il tuo Signore basterà proteggerli. È il vostro Signore che spinge la nave sul mare affinché ricerchiate la sua grazia in verità Egli è misericordioso nei vostri confronti. Quando siete in pericolo sul mare coloro che invocate svaniscono lui no. Quando poi vi riconduce a terra salvi vi allontanate da lui l'uomo ingrato. Siete forse certi che non vi faccia inghiottire da un baratro della terra o non invii contro di voi un uragano senza che possiate trovare chi vi protegga? O siete forse certi che non vi conduco un'altra volta sul mare ma andi contro di voi un ciclone vi faccia negare per la vostra miscredenza senza che possiate trovare chi vi difenda contro di noi? In verità abbiamo onorato i figli di Adamo li abbiamo condotti sulla terra e sul mare e abbiamo concesso loro cibo eccellente e li abbiamo fatti primeggiare su molte delle nostre creature. Nel giorno in cui ogni comunità sarà richiamata assieme la loro guida coloro che riceveranno il rotolo nella destra leggeranno il loro rotolo e non subiranno il minimo torto e colui che sarà stato cieco in questa vita lo sarà nell'altra e più traviato ancora. Intendevano infatti sviarti da ciò che ti abbiamo rivelato nella speranza che ci attribuissi inventandolo altro che questo Corano e allora ti avrebbero preso come amico e se non ti avessimo rafforzato avresti inclinato un po' verso di loro e allora ti avremmo fatto soffrire un doppio supplizio nella vita e un doppio supplizio nella morte e quindi non avresti trovato chi ti sarebbe stato d'ausilio contro di noi. Poco mancò che non ti spingessero ad abbandonare questa regione esiliandoti in tal caso vi sarebbero rimasti ben poco dopo di te poiché questo è il nostro modo di agire nei confronti degli inviati che mandammo prima di te e non c'è cambiamento nel nostro agire. Esegui l'orazione dal declino del sole fino alla caduta delle tenebre e fa la recitazione dell'alba che la recitazione dell'alba è testimoniata. Veglia in preghiera parte della notte sarà per te un'opera supererrogatoria presto il tuo signore ti risusciterà ad una stazione lodata e di oh signor mio fammi entrare con la verità e fammi uscire con la verità e concedimi potere e ausilio da parte tua e di è giunta la verità la falsità è svanita in vero la falsità è destinata a svanire facciamo scendere nel corano ciò che è guarigione e misericordia per i credenti e ciò che accresce la sconfitta degli oppressori quando colmiamo l'uomo di favori si sottrae e si allontana quando invece lo coglie sventura si rispera di ognuno agisce secondo la sua disposizione e il vostro signore ben conosce chi segue la via migliore ti interrogeranno a proposito dell'anima rispondi l'anima procede dall'ordine del mio signore e non avete ricevuto che ben poca scienza a riguardo se volessimo potremmo ritirare quello che ti abbiamo rivelato e allora non potresti trovare alcun protettore contro di noi se non lo facciamo è per una misericordia del tuo signore poiché in verità la sua grazia su di te è grande di se anche si riunissero gli uomini e demoni per produrre qualcosa di simile a questo corano non ci riuscirebbero quando anche si aiutassero gli uni con gli altri in questo corano abbiamo proposto agli uomini ogni specie di metafora la maggior parte di loro rifiuta tutto quanto eccetto la miscredenza e dicono non ti presteremo fede finché non farai sgorgare per noi una sorgente dalla terra o non avrai un giardino di palme e vigne nel quale farai sgorgare ruscelli copiosi o non avrai fatto cadere come pretendi il cielo in pezzi su di noi o non avrai fatto venire davanti a noi Allah e gli angeli in tuo aiuto oppure finché non avrai una casa d'oro o finché non sarai asceso al cielo e comunque non crederemo alla tua ascesa al cielo finché non farai scendere su di noi un libro che possiamo leggere rispondi gloria al mio signore non sono altro che un uomo un messaggero nulla impedisce alle genti di credere dopo che la guida è giunta loro se non il dire Allah ha davvero inviato un uomo per messaggero di qualora sulla terra ci fossero gli angeli e vi camminassero in pace avremmo certamente fatto scendere su di loro un angelo come messaggero di Allah è testimone sufficiente tra me e voi in verità egli è ben informato e osserva i suoi servi colui che Allah guida è ben diretto ma quanto coloro che Allah svia non troverai per loro patroni all'inforo di lui e nel giorno della risurrezione li riuniremo trascinandoli sui loro volti ciechi muti e sordi l'inferno sarà la loro dimora e ogni volta che si raffredderà ne ravviveremo le fiamme sarà il loro compenso perché tacciano di menzoni i nostri segni e dicono quando saremo ossa e polvere saremo resuscitati a nuova creazione ma non vedono dunque che Allah che ha creato i cieli e la terra è capace di creare il loro uguale e ha fissato loro un termine sul quale non c'è dubbio alcuno gli ingiusti non ammettono altro che la miscredenza di se possedeste i tesori della misericordia del mio signore li lesinereste per paura rispenderli che l'uomo è avaro in verità abbiamo dato a Mosè nove segni evidenti chiedi ai figli di Israele di quando giunse a loro e Faraone gli disse o Mosè io credo che tu sia stregato disse se è bene che non ha fatto scendere questi segni altri che il signore dei cieli e della terra prove inequivocabili della mia missione io credo Faraone che tu sia perduto Faraone voleva scacciarli dalla terra ma noi li facemmo annegare lui e quelli che erano con lui dicemmo poi ai figli di Israele abitate la terra quando si compì l'ultima promessa vi facemmo venire in massa eterogenea con la verità abbiamo fatto scendere il Corano e con la verità è sceso non ti inviamo se non come annunciatore di buona novella e come ammonitore è un Corano che abbiamo suddiviso affinché tu lo reciti lentamente agli uomini e lo facemmo scendere gradualmente di crediate in esso oppure no coloro ai quali in precedenza fu data la scienza si gettano prosternati i volti contro la terra quando viene loro recitato e dicono gloria al nostro Signore la promessa del nostro Signore si realizza cadono prosternati sui loro volti piangendo e la loro umiltà si accresce di invocate Allah o invocate il compassionevole qualunque sia il nome con il quale lo invochiate egli possiede i nomi più belli durante l'orazione non recitare ad alta voce e neppure in sordina cerca piuttosto una via mediana e di la lode appartiene ad Allah che non ha figlio alcuno che non ha associati nella sua sovranità e non ha bisogno di protettori contro l'umiliazione magnifica la sua grandezza Sura diciottesima la lode appartiene ad Allah che ha fatto scendere il libro sul suo schiavo senza porvi alcuna tortuosità un libro retto per avvertire di un rigore proveniente da parte di Allah per annunciare ai credenti che compiono il bene una ricompensa bella nella quale dimoreranno perpetuamente e per ammonire coloro che dicono Allah si è preso un figlio non hanno scienza alcuna come del resto i loro avi è mostruosa la parola che esce dalle loro bocche non dicono altro che menzogne distruggerà e seguendoli se non credono in questo discorso in verità abbiamo voluto abbellire la terra di tutto quello che vi si trova per verificare chi di loro opera al meglio e in verità poi ridurremo tutto quanto in suolo arido non ti sembra che il caso dei compagni della caverna e di Arra Kim sia tra i nostri segni meraviglioso quando quei giovani si rifugiarono nella caverna dissero signor nostro concedici la tua misericordia concedici retto comportamento nel nostro agire rendemmo sorde le loro orecchie rimasero nella caverna per molti anni li resuscitamo poi per vedere quale delle due fazioni meglio computasse il tempo che avevano trascorso ti racconteremo la loro storia secondo verità erano giovani che credevano nel loro signore e noi li rafforzammo sulla retta via fortificammo i loro cuori quando si elevarono a dire il nostro signore è il signore dei cieli e della terra mai invocheremo Dio all'infuori di lui che allora pronunceremo un'aberrazione ecco che la nostra gente si è presa degli idee all'infuori di lui perché non adducono una prova evidente su di loro qual peggior iniquo di chi inventa menzogne contro Allah quando vi sarete allontanati da loro e da ciò che adorano all'infuori di Allah rifugiatemi nella caverna il vostro signore spargerà su di voi la sua misericordia e deciderà del vostro caso nel migliore dei modi avresti visto il sole allevarsi sfiorare a destra la loro caverna e scostarsi a sinistra al calare mentre loro erano in un ampio spazio questi sono i segni di Allah colui che Allah guida è ben guidato ma per colui che egli svia non troverai patrono alcuno che lo diriga avresti creduto che fossero svegli e invece dormivano li giravamo sul lato destro e su quello sinistro mentre il loro cane era sulla soglia le zampe distese se li avessi scorti saresti certamente fuggito volgendo le spalle e certo saresti stato preso dal terrore vedendoli li resuscitammo infine perché si interrogassero a vicenda disse uno di loro quanto tempo siete rimasti dissero siamo rimasti una giornata o parte di una giornata dissero il vostro signore sa meglio quanto siete rimasti mandate uno di voi alla città con questo vostro denaro che cerchi il cibo più puro e ve ne porti per nutrirvi si comporti con gentilezza e faccia sì che nessuno si accorga di voi se si impadronissero di voi vi lapiderebbero o vi riporterebbero alla loro religione e in tal caso non avreste alcun successo facemmo sì che fossero scoperti affinché si sapesse che la promessa di Allah è verità e che non c'è dubbio alcuno a proposito dell'ora discutevano sul caso loro e dicevano innalzate su di loro un edificio il loro signore meglio li conosce quelli che infine prevassero dissero costruiamo su di loro un santuario diranno erano tre e il quarto era il cane diranno congetturando sull'ignoto cinque sesto il cane e diranno sette e l'ottavo era il cane di il mio signore meglio conosce il loro numero ben pochi lo conoscono non discutere di ciò eccetto per quanto è palese e non chiedere a nessuno un parere in proposito non dire mai di nessuna cosa sicuramente domani farò questo senza dire se Allah vuole ricordati del tuo signore quando avrai dimenticato di dirlo e di spero che il mio signore mi guidi in una direzione ancora migliore rimasero trecento anni nella loro caverna e ne aggiungono altri nove d Allah sa meglio quanto rimasero appartiene a lui il segreto dei cieli e della terra ha il miglior udito e la migliore vista all'infuori di lui non avranno patrono alcuno ed egli non associa nessuno al suo giudizio recita quello che ti è stato rivelato del libro del tuo signore nessuno può cambiare le sue parole e non troverai all'infuori di lui alcun rifugio e persevera insieme con coloro che invocano il loro signore al mattino e alla sera desiderando il suo volto non vadano oltre loro i tuoi occhi in cerca degli agi di questa vita non dar retta a colui il cui cuore abbiamo reso indifferente al ricordo di noi che si abbandona alle sue passioni ed è oltraggioso nel suo agire di la verità proviene dal vostro signore creda chi vuole e chi vuole neghi in verità abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le cui fiamme li circonderanno e quando imploreranno da bere saranno abbeverati da un'acqua simile a metallo fuso che ostionerà i loro volti che terribile bevanda che atroce dimora quanto a coloro che credono e compiono il bene non lasceremo andare perduta la ricompensa di chi avrà agito per il bene ecco coloro che avranno i giardini del Leiden dove scorrono i ruscelli saranno ornati di bracciali d'oro e vestiranno verdi abiti di seta finissima e di broccato e staranno appoggiati su alti divani che eccellente ricompensa che splendida dimora proponi loro la metafora dei due uomini ad uno di loro demmo due giardini di vigna circondati da palme da datteri separati da un campo coltivato davano il loro frutto i due giardini senza mancare in nulla e in mezzo a loro facemmo sgorgare un ruscello alla raccolta disse al suo compagno ti sono superiore per beni e più potente per clan entrò nel suo giardino e ingiusto nei suoi stessi confronti disse non credo che tutto questo possa giammai perire non credo che l'ora sia imminente e se mi si condurrà mio signore certamente troverò qualcosa di meglio che questo giardino gli rispose il suo compagno argomentando con lui vorresti rinnegare colui che ti creò dalla polvere e poi dallo sperma e ti ha dato forma d'uomo per quanto mi concerne è Allah il mio signore e non associerò nessuno al mio signore conveniva che entrando nel tuo giardino dicessi così Allah ha voluto non c'è potenza se non in Allah sebbene tu mi veda inferiore a te nei beni e nei figli può darsi che presto il mio signore mi dia qualcosa di meglio del tuo giardino e che invidi al cielo una calamità contro di esso riducendolo a nudo suolo o che l'acqua che riga scenda a tale profondità che tu non possa più raggiungerla fu distrutto il suo raccolto ed egli si torceva le mani per quello che aveva speso i pergolati erano distrutti diceva ah se non avessi associato nessuno al mio signore e non ci fu schiera che potesse essere di aiuto contro Allah ed egli stesso non potè aiutarsi che in tal caso spetta da Allah il vero la protezione egli è il migliore nella ricompensa e nel giusto esito proponi loro la metafora di questa vita è simile ad un'acqua che facciamo scendere dal cielo la vegetazione della terra si mescola ad essa ma poi diventa secca stoppia che i venti disperdono Allah ha potenza su tutte le cose ricchezze e figli sono l'ornamento di questa vita tuttavia le buone tracce che restano sono presso Allah le migliori quanto ricompensa e suscitano una bella speranza nel giorno in cui faremo muovere le montagne vedrai la terra spianata e tutti li riuniremo senza eccezione compariranno in file schierate davanti al tuo signore eccovi ritornati a noi come vi creammo la prima volta e invece pretendevate che mai vi avremmo fissato un termine e vi si consegnerà il registro allora vedrai gli empi sconvolti da quel che contiene diranno guai a noi cos'è questo registro che non lascia passare azione piccolo grande senza computarla e vi troveranno segnato tutto quello che avranno fatto il tuo signore non farà torto ad alcuno e quando dicemmo agli angeli prosternatevi davanti ad Adamo si prosternarono eccetto Iblis che era uno dei demoni e che si rivoltò all'ordine di Allah prenderete lui e la sua progenie come alleati in luogo di me nonostante siano i vostri nemici un pessimo scambio per gli ingiusti non li presi a testimoni della creazione dei cieli della terra e neppure della creazione di loro stessi e certamente non accetterai l'aiuto dei corruttori nel giorno in cui dirà chiamate coloro che pretendevate i miei consimili li invocheranno ma essi non risponderanno e tra loro avremo posto un abisso gli iniqui vedranno il fuoco allora capiranno di stare per cadervi e non avranno nessuno scampo certamente in questo corano abbiamo offerto alle genti ogni sorta di esempi ciò nonostante l'uomo è la più polemica delle creature cosa mai impedisce agli uomini di credere dopo che è giunta loro la guida e di chiedere perdono al loro signore vogliono subire il destino dei loro avi e che li colpisca in pieno il castigo non inviamo i profeti se non per annunciare ed ammonire i miscredenti usano le menzogne per indebolire la verità deridono i nostri segni e ciò di cui li si avverte quale peggior ingiusto di colui che si allontana dei segni di Allah dopo che essi gli sono stati ricordati e che dimentica quello che ha commesso abbiamo posto un velo sui loro cuori sì che non capiscano e abbiamo messo una pesantezza nelle loro orecchie anche se li richiami la retta via essi non la seguiranno mai il tuo signore è il perdonatore colui che detiene la misericordia se considerasse quello che hanno fatto certamente affretterebbe il castigo ma ognuno di loro ha un termine e nessuno potrà sfuggirvi quelle città le facemmo perire quando i loro abitanti furono ingiusti per ognuna avevamo stabilito un termine per la loro distruzione ricorda quando Mosè disse al suo garzone non avrò pace finché non avrò raggiunto la confluenza dei due mari dovessi anche camminare per degli anni quando poi giunsero la confluenza dimenticarono il loro pesce che miracolosamente riprese la sua via nel mare quando poi furono andati oltre disse al suo garzone tira fuori il nostro pranzo che ci siamo affaticati in questo nostro viaggio rispose vedi un po' cosa è accaduto quando ci siamo rifugiati vicino alla roccia ho dimenticato il pesce solo Satana mi ha fatto scordare di dirtelo e miracolosamente ha ripreso la sua via nel mare disse Mosè questo è quello che cercavamo poi entrambi ritornarono sui loro passi incontrarono uno dei nostri schiavi al quale avevamo concesso misericordia da parte nostra e al quale avevamo insegnato una scienza da noi proveniente chiese Mosè posso seguirti per imparare quello che ti è stato insegnato a proposito della retta via rispose non potrai essere paziente con me come potresti resistere dinanzi a fatiche che non potrai comprendere disse Mosè se Allah vuole sarò paziente e non disobbedirò i tuoi ordini e l'altro ribadì se vuoi seguirmi non dovrai interrogarmi su alcunché prima che io te ne parli partirono partirono entrambi e dopo essere saliti su una nave quello vi produsse una falla chiese Mosè hai prodotto la falla per far annegare tutti quanti hai certo commesso qualcosa di atroce rispose non ti avevo detto che non avresti avuto pazienza insieme con me disse non essere in collera per la mia dimenticanza e non impormi una prova troppo difficile continuarono insieme e incontrarono un giovinetto che quello uccise insorse Mosè hai ucciso un incolpevole senza ragione di giustizia hai certo commesso un'azione orribile rispose non ti avevo detto che non avresti avuto pazienza insieme con me disse Mosè se dopo di ciò ancora ti interrogerò non mi tenere più insieme con te ti prego di scusarmi continuarono insieme e giunsero nei pressi di un abitato chiesero da mangiare agli abitanti ma costoro rifiutarono l'ospitalità si imbatterono poi in un muro che minacciava di crollare e quello lo raddrizzò disse Mosè potresti ben chiedere un salario per quello che hai fatto disse questa è la separazione ti spiegherò il significato di ciò che non hai potuto sopportare con pazienza per quel che riguarda la nave apparteneva a povera gente che lavorava sul mare l'ho danneggiata perché l'inseguiva un tiranno che l'avrebbe presa con la forza il giovane aveva padre e madre credenti abbiamo voluto impedire che imponesse loro ribellione miscredenza e abbiamo voluto che il loro signore desse loro in cambio un figlio più puro e più degno di affetto il muro apparteneva a due orfani della città e alla sua base c'era un tesoro che apparteneva loro il loro padre era uomo virtuoso e il tuo signore volle che raggiungessero la loro età adulta e di seppellissere il loro tesoro segno questo della misericordia del tuo signore io non l'ho fatto di mia iniziativa ecco quello che non hai potuto sopportare con pazienza ti interrogeranno a proposito del bicorne di vi racconterò qualcosa sul suo conto in verità gli abbiamo dato ampi mezzi sulla terra e modo di riuscire in ogni impresa e gli seguì una via quando giunse all'estremo occidente vide il sole che tramontava in una sorgente ribollente e nei pressi c'era un popolo dicemmo obi corne puoi punirli oppure esercitare benevolenza nei loro confronti disse puniremo chi avrà agito ingiustamente e poi sarà ricondotto al suo signore che gli infliggerà un terribile castigo e chi crede e compie il bene avrà la migliore delle ricompense e gli daremo ordini facili seguì poi una via e quando giunse dove sorge il sole trovò che sorgeva su di un popolo cui non avevamo fornito alcunché per ripararsene così avvenne e noi abbracciavamo nella nostra scienza tutto quello che era presso di lui seguì poi una via quando giunse le due barriere trovò tra di loro un popolo che quasi non comprendeva alcun linguaggio dissero obi corne in vero Gog e Magog portano grande disordine sulla terra ti pagheremo un tributo se erigerai una barriera tra noi e loro disse ciò che il mio signore mi ha concesso è assai migliore voi aiutatemi che ho un'energia e porrò una diga tra voi e loro portatemi masse di ferro quando poi ne ebbe colmato il valico tra le due montagne disse soffiate quando fu incandescente disse portatemi rame affinché io lo versi sopra così non poterono scalarlo e neppure aprirvi un varco disse ecco una misericordia che proviene dal mio signore quando verrà la promessa del mio signore sarà ridotta in polvere e la promessa del mio signore è veridica in quel giorno lasceremo che calino inondate gli uni sugli altri sarà soffiato nel corno e li riuniremo tutti insieme in quel giorno mostreremo l'inferno ai miscredenti che hanno avuto gli occhi velati di fronte al mio monito e che non potevano dire i miscredenti credono di potersi scegliere per patroni miei servi all'infuori di me in verità abbiamo preparato l'inferno come dimora dei miscredenti d volete che vi citiamo coloro le cui opere sono più inutili coloro il cui sforzo in questa vita li ha sviati mentre credevano di fare il bene sono coloro che negarono i segni del loro signore e l'incontro con lui le loro azioni falliscono e non avranno alcun peso nel giorno della resurrezione la loro retribuzione sarà l'inferno per la loro miscredenza e per essersi burlati dei miei segni e dei miei messaggeri coloro che credono e compiono il bene avranno per dimora i giardini del paradiso dove rimarranno in perpetuo senza desiderare alcun cambiamento d se il mare fosse inchiostro per scrivere le parole del mio signore di certo si esaurirebbe prima che fossero esaurite le parole del mio signore anche se noi ne aggiungessimo altrettanto a rinforzo di non sono altro che un uomo come voi mi è stato rivelato che il vostro dio è un dio unico chi spera di incontrare il suo signore compie il bene e nell'adorazione non associ alcuno al suo signore questo è il racconto della misericordia del tuo signore verso il suo servo Zaccaria quando invocò il suo signore con un'invocazione segreta dicendo oh signor mio già sono stanche le mie ossa e sul mio capo brilla la canizie e non sono mai stato deluso invocandoti oh mio signore mia moglie è sterile e temo il comportamento dei miei parenti dopo di me concedimi da parte tua un erede che erediti da me ed erediti dalla famiglia di Giacobbe famio signore che sia a te gradito oh Zaccaria ti diamo la lieta novella di un figlio il suo nome sarà Giovanni a nessuno in passato imponemmo lo stesso nome disse come potrò mai avere un figlio mia moglie è sterile e la vecchiaia mi ha rinsecchito rispose è così il tuo signore ha detto ciò è facile per me già una volta ti ho creato quando non esistevi disse Zaccaria dammi un segno mio signore rispose il tuo segno sarà che pur essendo sano non potrai parlare alla gente per tre notti uscì dall'oratorio verso la sua gente e indicò loro di rendere gloria al signore al mattino e alla sera oh Giovanni tenti saldamente alla scrittura e gli demmo la saggezza fin da fanciullo tenerezza da parte nostra e purezza era uno dei timorati amorevole con i suoi genitori né violento né disobbediente pace su di lui nel giorno in cui nacque in quello della sua morte e nel giorno in cui sarà risuscitato a nuova vita ricorda Maria nel libro quando si allontanò dalla sua famiglia in un luogo d'oriente tese una cortina tra sé e gli altri le inviamo al nostro spirito che assunse le sembianze di un uomo perfetto disse Maria mi rifugio contro di te presso il compassionevole se sei di lui timorato rispose non sono altro che un messaggero del tuo signore per darti un figlio puro disse come potrei avere un figlio che mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina rispose è così il tuo signore ha detto ciò è facile per me faremo di lui un segno per le genti una misericordia da parte nostra e cosa stabilita lo concepì e in quello stato si ritirò in un luogo lontano i dolori dal parto la condussero presso il tronco di una palma diceva me disgraziata fossi morta prima di ciò e fossi già del tutto dimenticata fu chiamata da sotto non ti affliggere che certo il tuo signore ha posto un ruscello ai tuoi piedi scuoti il tronco della palma lascerà cadere su di te datteri freschi e maturi mangia bevi e rinfrancati se poi incontrerai qualcuno di ho fatto un voto al compassionevole e oggi non parlerò nessuno tornò dai suoi portando il bambino dissero o maria è commesso un abominio o sorella di aronne tuo padre non era un empio né tua madre una libertina ma riendico a loro il bambino dissero come potremmo parlare con un infante nella culla ma Gesù disse in verità sono un servo di Allah mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta mi ha benedetto ovunque sia e mi ha imposto l'orazione la decima affinché avrò vita e la bontà verso con lei che mi ha generato non mi ha fatto né violento né miserabile pace su di me il giorno in cui sono nato il giorno in cui morrò e il giorno in cui sarò resuscitato a nuova vita questo è Gesù figlio di Maria parola di verità della quale essi dubitano non si addice ad Allah prendersi un figlio gloria a lui quando decide qualcosa dice sì ed essa è in verità Allah è il mio e vostro signore adoratelo questa è la retta via poi le sette furono in disaccordo tra loro guai a coloro che non credono quando compariranno nel giorno terribile a come vedranno intenderanno nel giorno in cui saranno ricondotti a noi ma gli ingiusti oggi sono in palese errore avvertili del giorno del rimorso in cui sarà emesso l'ordine mentre essi saranno distratti e non credenti siamo noi che erediteremo la terra e quanti vi stanno sopra e che a noi saranno ricondotti ricorda nel libro Abramo in verità era un veridico un profeta disse a suo padre o padre perché adori ciò che non vede non sente e non può proteggerti dal conché o padre mi è stata data una scienza che tu non hai avuto seguimi e ti condurrò sulla retta via o padre non adorare satana egli è sempre disobbediente al compassionevole o padre temo che ti giunga un castigo del compassionevole e che tu divenga uno dei prossimi di satana disse o Abramo hai in odio i miei dei se non desisti ti lapiderò allontanati per qualche tempo rispose pace su di te implorerò per te il perdono del mio signore poiché egli è sollecito nei miei confronti mi allontano da voi e da ciò che adorate all'infuori di Allah mi rivolgo al signore che certamente non sarò infelice nella mia invocazione al mio signore quando poi si fu allontanato da loro e da quello che adoravano all'infuori di Allah gli donammo Isacco e Giacobbe ed entrambi li facemmo profeti concedemmo loro la nostra misericordia e un sublime veritiero eloquio ricorda Mosè nel libro in verità era un eletto un messaggero un profeta lo chiamamo dalla parte destra del monte e lo facciamo avvicinare in confidenza e come misericordia da parte nostra gli demmo suo fratello Ronne come profeta ricorda Ismaele nel libro in verità era sincero nella sua promessa era un messaggero un profeta imponeva alla sua famiglia l'orazione e la decima ed era gradito il suo signore ricorda Idris nel libro in verità era veridico un profeta lo elevammo in alto luogo essi sono coloro che Allah ha colmato della sua grazia tra i profeti discendenti di Adamo tra coloro che portammo con Noè tra i discendenti di Abramo e di Israele e tra coloro che abbiamo guidato e scelto quando venivano recitati loro i segni del compassionevole cadevano in prosternazione piangendo coloro che vennero dopo di loro tralasciarono l'orazione e si abbandonarono alle passioni incontreranno la perdizione coloro che invece si pentono credono e compiono il bene entreranno nel giardino e non subiranno alcun torto nei giardini di Eden che il compassionevole ha promesso ai suoi servi che hanno creduto nell'invisibile ai suoi servi che la sua promessa è imminente e non ascolteranno colà nessun discorso vano ma solo pace e verranno sostentati al mattino e alla sera questo è il giardino che faremo ereditare i nostri servi che saranno stati timorati noi scendiamo solo per ordine del tuo signore a lui appartiene tutto quello che ci sta innanzi tutto quello che è dietro di noi e ciò che vi è fra mezzo il tuo signore non è in memore è il signore dei cieli e della terra e di tutto ciò che vi è fra mezzo adoralo dunque e persevera nell'adorazione conosci qualcuno che abbia il suo stesso nome dice l'uomo quando sarò morto chi mi riporterà alla vita non si ricorda l'uomo che fummo noi a crearlo quando ancora non era nulla per il tuo signore li riuniremo insieme ai diavoli e poi li condurremo inginocchiati attorno all'inferno quindi trarremo da ogni gruppo quello che fu più arrogante verso compassionevole che meglio di tutti conosciamo coloro che più meritano di bruciarvi nessuno di voi mancherà di passarvi ciò è fermamente stabilito dal tuo signore salveremo coloro che ci hanno temuto e lasceremo gli ingiusti in ginocchio quando vengono recitati i nostri chiari versetti i miscredenti dicono a coloro che credono quale dei due partiti ha migliore posizione e buona compagnia quante generazioni abbiamo orientato prima di loro più ricche di beni e di prestigio di che il compassionevole prolunghi la vita di coloro che sono sviati finché non vedranno il castigo e l'ora che li minaccia sapranno allora chi si trova nella peggiore situazione e chi ha la compagine più debole Allah rafforza la guida di quelli che seguono la retta via le buone tracce che restano sono le migliori per la ricompensa e per il migliore esito presso Allah che ti sembra di colui che ha rinnegato i nostri segni asserendo certo avrò beni e figli conosce il mistero o ha stretto un patto con il compassionevole certo che no annoteremo quello che dice e molto accresceremo il suo tormento saremo noi ad ereditare ciò di cui parla e si presenterà da solo dinnanzi a noi si sono presi dei all'infuori di Allah sperando che fossero loro d'aiuto invece no essi rifiuteranno la loro adorazione e saranno loro nemici non vedi che abbiamo mandato i diavoli contro i miscredenti per incitarli con forza non aver fretta di combatterli siamo noi a tenere il computo il giorno in cui riuniremo i timorati presso il compassionevole come invitati d'onore e spingeremo i malvagi nell'inferno come bestie all'abbeveratoio non beneficeranno di nessuna intercessione a parte colui che avrà fatto un patto con il compassionevole dicono Allah si è preso un figlio avete detto qualcosa di mostruoso manca poco che si spacchino i cieli si apra la terra e cadano a pezzi le montagne perché attribuiscono un figlio al compassionevole non si addice al compassionevole prendersi un figlio tutte le creature dai cieli e dalla terra si presentano come servi al compassionevole egli li ha contati e tiene il conto e nel giorno della risurrezione ognuno si presenterà da solo davanti a lui in verità il compassionevole concederà il suo amore a coloro che credono e compiono il bene lo rendemmo facile la tua lingua perché tu annunci la lieta novella ai timorati e avverta il popolo ostile quante generazioni facciamo perire prima di loro ne puoi ritrovare anche uno solo o sentire il minimo bisbiglio sura ventesima ta ah non abbiamo fatto scendere il corano su di te per renderti infelice ma come monito per chi ha timore di Allah sceso da parte di colui che ha creato la terra e gli alti cieli il compassionevole si è innalzato sul trono appartiene a lui quello che è nei cieli e quello che sta sulla terra quello che vi è fra mezzo e nel sottosuolo è inutile che parli ad alta voce che in verità egli conosce il segreto anche il più nascosto Allah non c'è Dio all'infuori di lui a lui appartengono i nomi più belli ti è giunta la storia di Mosè quando vide un fuoco disse alla sua famiglia aspettate ho avvistato un fuoco forse potrò portarvene un tizzone o trovare nei suoi pressi una guida quando vi giunse sentì chiamare oh Mosè in verità sono il tuo signore levati i sandali che sei nella valle santa di Tua io ti ho scelto ascolta ciò che sta per esserti rivelato in verità io sono Allah non c'è Dio all'infuori di me adorami ed esegui l'orazione per ricordarti di me in verità l'ora è imminente anche se la tengo celata affinché ogni anima sia compensata delle opere sue non lasciare che ti ostacoli colui che non crede in essa ed è inclina le sue passioni che altrimenti per i resti oh Mosè cosa tieni nella tua mano destra disse è il mio bastone mi ci appoggio e faccio cadere foglie degli alberi per i miei montoni e mi serve anche per altre cose disse Allah gettalo a Mosè lo gettò ed ecco che divenne un serpente che strisciava veloce disse Allah afferralo e non temere gli daremo la sua forma originaria stringi la mano sotto l'ascella ne uscirà bianca senza alcun male ecco un altro segno per mostrarti altri nostri segni ben più grandi vai da faraone in verità si è ribellato disse aprimi il petto signore facilita il mio compito e sciogli il nodo della mia lingua sì che possano capire il mio dire concedimi in aiuto uno della mia famiglia a Ronne e mio fratello accresci con lui la mia forza e associalo alla mia missione perché possiamo renderti gloria molto e perché possiamo ricordarti molto in verità tu sempre ci osserverai disse o Mosè la tua richiesta è esaudita già innanzi ti favorimmo quando ispirammo a tua madre quello che le fu ispirato mettilo in una cesta e gettala nell'acqua così che le onde la riportino a riva ove lo raccoglierà un mio e suo nemico ho posto su di te il mio sguardo amorevole affinché tu venissi allevato sotto il mio occhio passava tua sorella e disse posso indicarvi chi potrà occuparsene e ti riportammo a tua madre perché si consolassero i suoi occhi e più non si affliggesse uccidesti un uomo ti cavammo d'impaccio e ti imponemmo molte prove rimanesti per anni presso la gente di Madian poi venisti fin qui o Mosè per una predestinazione ti ho scelto per me va con tuo fratello con i segni miei e non trascurate di ricordarmi andate da Faraone in verità si è ribellato parlategli con dolcezza forse ricorderà o temerà alla dissero o signor nostro temiamo che si scagli contro di noi o che accresca la ribellione rispose non temete io sono con voi tutto odo e vedo andate pure da lui e ditegli in verità siamo due messaggeri del tuo signore lascia partire con noi i figli di Israele e non tormentarli più siamo venuti da te con un segno da parte del tuo signore pace su chi segue la retta via in verità ci è stato rivelato che il castigo sarà per chi nega e volge le spalle disse Faraone o Mosè chi è il vostro signore rispose il nostro signore è colui che ha dato ad ogni cosa la sua propria natura e poi la guidata sulla retta via disse cosa ne è delle generazioni antiche rispose la conoscenza di ciò è in una scrittura presso il mio signore il mio signore non sbaglia e non dimentica è lui che vi ha dato la terra come culla e vi ha tracciato sentieri e dal cielo fa scendere l'acqua per mezzo della quale facciamo germinare diverse specie di piante mangiatene e fatevi pascolare il vostro bestiame ecco segni per coloro che hanno intelletto da essa vi abbiamo creati in essa vi faremo ritornare e da essa vi trarremo un'altra volta gli mostrammo tutti i nostri segni ma li attacciati di menzogne e rinnegati disse o Mosè sei venuto per cacciarci dalla nostra terra con la tua magia allora ti opporremo una magia simile fissa per te e per noi un incontro in un luogo appropriato noi non mancheremo e tu neppure rispose l'incontro sarà nel giorno della festa che la gente sia riunita al mattino si ritirò Faraone preparò i suoi artifici e poi si presentò disse Mosè guai a voi non inventate menzogne contro Allah vi annienterebbe per punizione chi inventa menzogne è certamente perduto discussero in proposito i maghi in segreti conciliaboli dissero quei due sono sicuramente due maghi che vogliono cacciarvi dalla vostra terra con la magia e cancellare la vostra esemplare dottrina riunite i vostri incantesimi e venite in fila chi avrà oggi il sopravvento sarà il vincitore dissero getti tu Mosè o gettiamo noi per primi disse gettate pure ed ecco che gli parve che le loro corde e i loro bastoni si mettessero a correre per effetto di magia Mosè ne fu intimorito nell'intimo gli dicemmo non aver paura avrai sopravvento getta quello che c'è nella tua mano destra divorerà quello che han fatto perché quello che han fatto è artificio di mago e il mago ovunque vada non avrà riuscita i maghi cadero in prosternazione e dissero crediamo nel signore di Aronne e di Mosè disse Faraone crederete in lui prima che io ve lo permetta è certo lui il vostro maestro che vi ha insegnato la magia vi farò tagliare mani e piedi alternati e vi farò crocifiggere ai tronchi di palma e capirete chi di noi è più duro e pertinacce nel castigo dissero non ti potremmo mai preferire a quello che c'è stato provato e a colui che ci ha creati attua pure quello che hai deciso le tue decisioni non riguardano che questa vita in verità noi crediamo nel nostro signore che ci perdoni i nostri peccati e la magia che ci hai imposto Allah è migliore duraturo chi si presenterà empio al suo signore certamente avrà l'inferno dove non morirà né vivrà chi invece si presenterà a lui credente e avrà compiuto opere buone ecco coloro che avranno l'onore più grande i giardini di Eden dove scorrono i ruscelli e in cui rimarranno in perpetuo questo è il compenso per chi si purifica in verità ispirammo questo a Mosè parti durante la notte alla testa dei miei servi e apri per loro una strada asciutta nel mare non devi temere che vi raggiungano non avere alcun timore lì inseguì Faraone con i suoi armati e furono sommersi dalle onde Faraone sviò la sua gente e non la guidò al bene oh figli di Israele vi liberammo dal vostro nemico e vi demmo convegno sul lato destro del monte facemmo scendere su di voi la manna e le quaglie mangiate le ottime cose di cui vi abbiamo provveduto e non ribellatevi o la mia collera sarà su di voi e colui sul quale si abbatte la mia collera è destinato all'abisso in verità io sono colui che assolve chi si pente crede compie il bene e poi segue la retta via cos'è che ti ha spinto a sopravanzare il tuo popolo o Mosè rispose essi sono sui miei passi mi sono affrettato verso di te o Signore per compiacerti disse in tua assenza abbiamo tentato la tua gente e i Samiri li ha traviati ritornò Mosè al suo popolo pieno di collera e di spiacere disse o popol mio non vi ha fatto il vostro Signore una bella promessa l'attesa del patto era troppo lunga per voi avete voluto che fosse su di voi la collera del vostro Signore e così avete mancato la promessa che mi avevate fatto dissero non è per nostra volontà che abbiamo mancato la promessa eravamo appesantiti dai gioielli di quella gente li abbiamo buttati il Samiri li ha gettati e ne ha tratto un vitello dal corpo mugghiante e tutti dissero è il vostro Dio il Dio di Mosè Mosè ha dimenticato di informarvene che non vedevano che quello non poteva rispondere e non poteva portare loro né danno né giovamento già Aronne li aveva avvertiti o popol mio siete caduti nella tentazione il compassionevole è veramente il vostro Signore seguitemi allora e obbedite ai miei ordini risposero non cesseremo di adorarlo finché Mosè non sarà di ritorno disse Mosè o Aronne cosa ti ha impedito quando li hai visti sviarsi perché non mi hai raggiunto hai disobbedito ai miei ordini rispose o figlio di mia madre non prendermi per la barba o per i capelli temevo che avresti detto hai creato una divisione tra i figli di Israele e non hai obbedito alle mie parole disse Mosè e tu Samiri qual era il tuo disegno rispose ho visto quello che non hanno visto ho preso un pugno di polvere dalla traccia dell'inviato e l'ho gettata questo mi ha suggerito l'animo mio vattene disse Mosè per tutta la vita dovrai avvertire non toccatemi sei destinato ad un incontro cui non potrai mancare guarda il Dio che hai odorato assiduamente lo bruceremo e disperderemo le ceneri nel mare in verità il vostro Dio è Allah al di fuori del quale non c'è divinità alcuna egli tutto abbraccia nella sua scienza così ti raccontiamo le storie del passato è un monito da parte nostra che ti abbiamo dato chiunque se ne allontana nel giorno della ressurrezione porterà un fardello resteranno perpetuamente in quello stato che atroce fardello nel giorno della ressurrezione nel giorno in cui sarà soffiato nel corno riuniremo in quel giorno i malvagi e avranno gli occhi bluastri bisbiglieranno tra loro non siete rimasti nella tomba che dieci giorni conosciamo meglio di chiunque altro quello che diranno quando il più ragionevole di loro dirà siete rimasti solo un giorno ti chiederanno a proposito delle montagne di il mio signore le ridurrà in polvere e ne farà una pianura livellata dove non vedrai asperità o depressioni in quel giorno seguiranno indefettibilmente colui che li avrà chiamati e abbasseranno le voci davanti al compassionevole non sentirai altro che un mormorio in quel giorno si potrà godere dell'intercessione solo con il permesso del compassionevole e da parte di coloro le cui parole saranno da lui accette egli conosce quello che li precede e quello che li segue mentre la loro scienza non può comprenderlo si umilieranno i loro volti davanti al vivente colui che esiste di per sé stesso e per il quale sussiste ogni cosa mentre chi sarà carico di peccati si perderà e chi sarà stato credente e avrà compiuto il bene non temerà alcun danno o ingiustizia lo facemmo scendere sotto forma di corano arabo nel quale formulammo esplicite minacce chissà che non divengano timorati o che sia per essi un monito si è esaltato alla il re il vero non aver fretta di recitare prima che sia conclusa la rivelazione ma di signor mio accresci la mia scienza già imponemmo il patto ad adamo ma lo dimenticò perché non ci fu in lui risolutezza e quando dicemmo agli angeli prosternatevi davanti ad adamo tutti si prosternarono eccetto i bliss che rifiutò dicemmo o adamo in verità quello è un nemico manifesto per te per la tua sposa bada che non vi tragga entrambi fuori dal paradiso che in tal caso saresti infelice ti promettiamo che qui non avrai mai fame e non sarai nudo non avrai mai sete e non soffrirai la calura del giorno gli sussurrò satana o adamo vuoi che ti mostri l'albero dell'eternità e il regno imperituro ne mangiarono entrambi e presero coscienza della loro nudità iniziarono a coprirsi intrecciando foglie del giardino adamo disobbedì al suo signore e si traviò lo scelse poi il suo signore accolse il suo pentimento e lo guidò e disse scendete insieme sarete nemici gli uni degli altri quando poi vi giungerà una guida da parte mia chi allora la seguirà non si svierà e non sarà infelice chi si sottrae al mio monito avrà davvero vita miserabile e sarà resuscitato cieco nel giorno della resurrezione dirà signore signore perché mi hai resuscitato cieco quando prima ero vedente Allah risponderà ecco ti giunsero i nostri segni e li dimenticasti alla stessa maniera oggi sei dimenticato compensiamo così il trasgressore che non crede ai segni del suo signore in verità il castigo dell'altra vita è più severo e durevole non è servito loro da lezione che facemmo perire le generazioni nelle cui dimore oggi si aggirano in verità in ciò vi sono certo segni per coloro che hanno intelletto se non fosse stato per una precedente parola del tuo signore e per un termine già stabilito già tutto questo sarebbe avvenuto sopporta dunque con pazienza quello che dicono glorifica e loda il tuo signore prima del levarsi del sole e prima che tramonti glorificalo durante la notte e agli estremi del giorno così che tu possa essere soddisfatto non volgere lo sguardo ai beni effimeri che abbiamo concesso ad alcuni di loro per metterli alla prova il compenso del tuo signore è certamente migliore e più duraturo comanda la preghiera alla tua gente e assiduamente assolvila non ti chiediamo alcun nutrimento siamo noi a nutrirti il felice esito è nel timore di Allah dicono perché mai non ci porta un segno da parte del suo signore non è forse giunta a loro la prova che era annunciata nelle antiche scritture se per castigo li avessimo fatti perire prima della sua venuta avrebbero certamente detto o signor nostro perché non ci hai inviato un messaggero avremmo seguito i tuoi segni prima di essere umiliati e coperti di abominio di tutti aspettano aspettate allora e ben presto saprete chi sono i compagni della retta via e chi sono i ben guidati sura ventunesima si avvicina per gli uomini la resa dei loro conti mentre essi incuranti trascurano non giunse loro alcun monito da parte del loro signore che non ascoltassero i riverenti con i cuori distratti mentre gli ingiusti tengono tra loro segreti conciliaboli chi è costui se non un uomo come voi volete lasciarvi andare alla magia a voi che lucidamente vedete disse il mio signore conosce ogni parola pronunciata nel cielo e sulla terra egli tutto ascolta e conosce dissero sono invece incubi confusi o è lui che li ha inventati non è che un poeta ci mostri piuttosto un segno come quelli che furono inviati agli antichi profeti tutte le comunità che facemmo perire prima di loro non credettero crederanno questi prima di te non inviamo che uomini ai quali comunicamo la rivelazione chiedete alla gente della scrittura se non lo sapete non facemmo corpi che facessero a meno del cibo e neppure erano eterni realizziamo su di loro la promessa salvammo loro e quelli che volemmo e facemmo perire i prevaricatori in verità abbiamo fatto scendere su di voi un libro contenente il monito per voi non comprenderete quante ingiuste città distruggemmo per suscitare poi un altro popolo quando avvertirono la nostra severità fuggirono precipitosamente non fuggite ritornate nel lusso e nelle vostre case forse ve ne sarà chiesto conto dissero guai a noi in vero siamo stati ingiusti non smisero di gridarlo finché ne facemmo messi falciate senza vita non è per gioco che creammo il cielo e la terra e quel che vi è fra mezzo se avessimo voluto divertirci lo avremmo fatto presso noi stessi se mai avessimo voluto farlo e invece no scagliamo la verità sulla menzogna che le schiacci la testa ed ecco che essa scompare siate maledetti per quello che affermate solo a lui appartengono tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra coloro che sono presso di lui non disdegnano di adorarlo e non se ne stancano lo glorificano notte e giorno ininterrottamente oppure entrato dalla terra divinità che risuscitano se nei cieli e sulla terra ci fossero altre divinità oltre ad Allah già gli uni e l'altra sarebbero corrotti gloria ad Allah signore del trono ben al di sopra di quello che gli attribuiscono non sarà lui ad essere interrogato sono loro che lo saranno ci sono presi lei all'infuori di lui di mostrate la vostra prova questo è un monito per coloro che sono con me e per coloro che furono prima di me ma la maggior parte di essi non conoscono la verità e se ne discostano non inviamo prima di te nessun messaggero senza rivelargli non c'è altro Dio che me adoratemi dicono il compassionevole si è preso un figlio gloria a lui quelli non sono che servi onorati che mai precedono il suo dire e agiscono secondo il suo ordine egli conosce quel che li precede e quel che li segue ed essi non intercedono se non in favore di coloro di cui si compiace e sono compenetrati di timor di lui chi di loro dicesse davvero io sono un Dio all'infuori di lui lo compenseremo con l'inferno è così che compensiamo gli ingiusti non sanno dunque i miscredenti che i cielo e la terra formavano una massa compatta poi li separammo e traemmo dall'acqua ogni essere vivente ancora non credono abbiamo infisso sulla terra le montagne affinché non oscilli coinvolgendoli e vi ponemmo larghi passi si sapranno dirigere e del cielo abbiamo fatto una volta sicura eppure essi si distolgono dai segni egli è colui che ha creato la notte e il giorno il sole e la luna ciascuno naviga nella sua orbita non concedemmo all'immortalità nessun uomo che ti ha preceduto dovresti forse morire se essi fossero immortali ogni anima gusterà la morte vi sottoporremo alla tentazione con il male e con il bene e poi a noi sarete ricondotti quando i miscredenti ti vedono non fanno che burlarsi di te cosa? è costui che dice male dei vostri dei? e negano il monito del compassionevole l'uomo è stato creato di impazienza vi mostrerò i miei segni non chiedetemi di affrettarli dicono quando si realizzerà questa promessa? ditecelo se siete veritieri ah se i miscredenti conoscessero il momento in cui non potranno allontanare il fuoco dai loro volti e dalle loro schiene e non potranno essere soccorsi e invece giungerà loro all'improvviso e ne saranno sbalorditi non potranno allontanarlo e non sarà dato loro un rinvio già furono dei risi messaggeri che ti precedettero ciò di cui si burlavano avvolgerà coloro che diridevano d chi potrebbe mai proteggervi notte e giorno dal compassionevole e invece sono indifferenti al monito del loro signore dispongono forse all'infuori di noi di dei che sappiano proteggerli questi non possono neppure difendere loro stessi né trovare altri che li difendano contro di noi in effetti concedemmo a loro e loro avi un codimento effimero finché non furono longevi non vedono che investiamo la terra riducendola da ogni lato sono forse loro i vincitori di non faccio altro che avvertirvi con la rivelazione ma i sordi non odono il richiamo quando li si avverte se solo gli sfiorasse un alito del castigo del tuo signore certamente direbbero guai a noi in vero siamo stati ingiusti rizzeremo bilancio esatte nel giorno della risurrezione e nessuna anima subirà alcun torto fosse anche del peso di un granello di senape lo riesumeremo basteremo noi a tirare le somme in verità demmo a mosea ad aronne discrimine una luce e un monito per i pi che temono il loro signore in quello che è invisibile e che trepidano per l'ora questo è un monito benedetto che abbiamo fatto scendere lo rinnegherete siamo noi che conducemmo abramo sulla retta via noi che lo conoscevamo quando disse a suo padre e alla sua gente cosa sono queste statue in cui credete risposero troviamo i nostri avi che le adoravano disse certo siete stati nell'errore più palese voi e i vostri avi dissero sei venuto con la verità o stai scherzando disse certo che no il vostro signore è il signore dei cieli e della terra è lui che li ha creati e io sono tra coloro che lo attestano e giuro per Allah che tramerò contro i vostri idoli non appena volterete le spalle e infatti li ridusse in briciole eccetto il più grande affinché si rivolgessero ad esso dissero che ha fatto questo i nostri dei è certo un iniquo disse qualcuno di loro abbiamo sentito un giovane che li disprezzava si chiama abramo dissero conducetelo al nostro cospetto affinché possano testimoniare dissero o abramo sei stato tu a far questo i nostri dei disse è il più grande di loro che lo ha fatto interrogateli se possono parlare si avvidero del loro imbarazzo e dissero tra loro davvero siete stati ingiusti fecero un volta faccia e dissero ben sai che essi non parlano disse adorate all'infuori di Allah qualcuno che non vi giova e non vi nuoce vergognatevi di voi stessi e di ciò che adorate all'infuori di Allah non ragionate dunque dissero bruciatelo e andate in aiuto dei vostri dei se siete in grado di farlo dicemmo fuoco sii frescura e pace per abramo tramarono contro di lui ma facemmo si che fossero loro i perdenti salvammo lui e Lot e li guidammo verso una terra che colmammo di benedizione per i popoli e li demmo Isacco e Giacobbe e ne facemmo dei devoti ne facemmo capi che dirigessero le genti secondo il nostro ordine rivelammo loro di fare il bene di osservare l'orazione e di versare la decima erano nostri adoratori e a Lot demmo saggezza e scienza e lo salvammo dalla città in cui si commettevano turpitudini in verità erano un popolo malvagio e perverso lo facemmo entrare nella nostra misericordia egli era davvero un devoto e quando in precedenza Noè implorò noi gli rispondemmo e lo salvammo dal terribile cataclisma insieme con la sua famiglia gli prestammo soccorso contro la gente che smentiva i nostri segni erano davvero uomini malvagi tutti gli annegammo Davide e Salomone giudicarono a proposito di un campo coltivato che un greggio di montoni appartenente a certa gente aveva devastato pascolandovi di notte fummo testimoni del loro giudizio facemmo sì che Salomone comprendesse correttamente demmo ad entrambi saggezza e scienza costringemmo le montagne a rendere gloria insieme con Davide e gli uccelli insieme siamo noi che lo abbiamo fatto gli insegnammo a vostro vantaggio la fabbricazione delle cotte di maglia affinché vi proteggessero dalla vostra stessa violenza ne sarete mai riconoscenti e sottomettemmo il vento impetuoso a Salomone al suo ordine soffiava sulla terra che abbiamo benedetta noi conosciamo ogni cosa e fra i demoni alcuni si tuffavano per lui e compivano altre opere ancora eravamo noi a sorvegliarli e si rivolse Giobbe al suo signore il male mi ha colpito ma tu sei il più misericordioso dei misericordiosi gli rispondemmo e lo sollevamo dal male che lo affliggeva e gli restituimo la sua famiglia e un'altra ancora segno di misericordia da parte nostra e monito per coloro che ci adorano e Ismaele e Idris e Zul Kifl tutti furono perseveranti che facemmo beneficiare della nostra misericordia tutti erano dei devoti e l'uomo del pesce quando se ne andò irritato pensava che non lo mettessimo alla prova poi implorò così nelle tenebre non c'è altro Dio all'infori di te gloria a te io sono stato un ingiusto gli rispondemmo e lo salvammo dalla disperazione così salviamo coloro che credono e Zaccaria si rivolse al suo signore non lasciarmi solo signore tu sei il migliore degli eredi lo esaudimmo e gli demmo Giovanni e sanammo la sua sposa in verità si affrettavano al bene ci invocavano con amore e trepidazione ed erano umili davanti a noi e ricorda con lei che ha mantenuto la sua castità insufflammo in essa del nostro spirito e facemmo di lei e di suo figlio un segno per i mondi sì questa vostra comunità è un'unica comunità e io sono il vostro signore adoratemi si divisero invece ma infine tutti a noi faranno ritorno chi compie il bene ed è credente non vedrà disconosciuto il suo sforzo che noi lo registriamo agli abitanti delle città che facemmo perire è vietato ritornare al mondo fino al momento in cui si scateneranno Gog e Magog e dilageranno ad ogni altura la vera promessa si approssima e gli sguardi dei miscredenti si fanno sbarrati guai a noi siamo stati distratti peggio ancora siamo stati ingiusti voi e quelli che adoravate all'infuori di Allah sarete combustibile dell'inferno non potrete evitarlo se quegli altri fossero stati dei non vi sarebbero entrati vi rimarranno tutti in perpetuo colà gemeranno ma nessuno si ascolterà ne saranno esclusi coloro per i quali il nostro bene ha avuto il sopravvento non ne sentiranno il fragore e godranno per sempre quello che le loro anime desiderano non li affliggerà la grande angoscia e gli angeli li accoglieranno ecco il giorno che vi era stato promesso il giorno in cui avvolgeremo il cielo come gli scritti sono avvolti in rotoli come iniziamo la prima creazione così la reitereremo è nostra promessa saremo noi a farlo lo abbiamo scritto nel salterio dopo che venne il monito la terra sarà ereditata dai miei servi devoti in verità inciovio un messaggio per un popolo di adoratori non ti mandammo se non come misericordia per il creato di in verità mi è stato rivelato che il vostro dio è un dio unico sarete musulmani se poi volgono le spalle allora di io vi ho avvertiti tutti senza discriminazioni ma non so se ciò che vi è stato promesso è prossimo o lontano egli conosce quello che proclamate e quello che tenete segreto non so se ciò sia una tentazione per voi un effimero godimento di mio signore giudica secondo verità il nostro signore è il compassionevole da lui invochiamo aiuto contro ciò che affermate grazie 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 a tutti